Il terzo posto nella sezione poesie e lingue italiane è stato assegnato a Domenica Iero. Grazie Domenica, intanto con quale poesia si è stata premiata? Il sussurro del tempo. Questa poesia intanto nasce da una mia riflessione. Noi pensiamo, sempre abbiamo paura del tempo che scorre, paura di non avere tempo. In effetti non è che non abbiamo tempo, noi lo spendiamo male perché abbiamo tanto tempo. La vita è fatta di minuti, di mesi, di anni. Noi ci perdiamo in piccole cose, in cose inutili, perdiamo tutte le sfumature che la natura ci offre. E quindi noi non abbiamo più paura quando pensiamo alla poesia, l'amore, le emozioni, tutte le sfumature che la natura ci dà. E allora ascoltiamo la poesia. Il sussurro del tempo. Il sussurro del tempo è un lieve sospiro. Lo ascolti fra i sassi smossi dalla risacca, nel frigolio effimero della spuma del mare, nei cigolì di un canneto solitario flesso dal vento, nelle onde di un campo di grano spezzato dalla burrasca. Il sussurro del tempo fermenta nelle botti di settembre, risuona lieve sui selciati battuti dalla pioggia d'inverno. Ti riempie del profumo di terra bagnata dopo i temporali estivi. Il sussurro del tempo è il pensiero di te che di notte lieve mi avvolge. L'immagine tua evanescenta accanto a me, i tuoi occhi talvolta smarriti nel dubbio dell'essere. Vorrei ascoltarti, vorrei ascoltarlo con te. Grazie Domenica e complimenti ancora per il premio ricevuto. Grazie